Partiamo subito dalla riete. Riuscirete a ottenere quello che volete senza forzare la mano a nessuno, ma non per questo dopo vi sentirete soddisfatti. Toro, chiedete consiglio a chi vi ama prima di accettare una proposta fuori standard. Vi aiuterà a sviscerare anche i risvolti meno evidenti. In famiglia vi verrà richiesto più impegno, più fedeltà alle incombenze domestiche. Gemelli, vi impegnerete al massimo nella vostra attività, pieni di voglia di emergere e pronti a dar battaglia contro qualsiasi ostacolo, con il rischio di crearvi però anche qualche nemico di troppo. Ricordate che i tempi non saranno brevi per arrivare dove volete. Cancro, cercate di restare con i piedi per terra se non volete andare incontro a qualche delusione. Avete la tendenza a volare troppo in fretta e troppo lontano con la fantasia. Leone, una notevole sicurezza in voi stessi, vi sosterrà di fronte agli altri permettendo alle vostre ispirazioni di imporsi. Peccato che non sempre siete disposti al dialogo e che di conseguenza vi generate opposizioni e critiche. Vergine, prendetevi un attimo di pausa e riflettete. Siete veramente soddisfatti del vostro lavoro e della vostra vita? Non rimandate la risposta e poi agite di conseguenza. Bilancia, potrete consolidare la vostra posizione e se svolgete un lavoro di tipo commerciale allargare la vostra base di clienti. Evitate gelosie e invidie per i colleghi che hanno iniziato prima di voi. Scorpione, se tenete veramente a un rapporto, è giunto il momento di chiarire la serietà delle vostre intenzioni e la profondità dei vostri sentimenti. Prendetevi le vostre responsabilità. Sagittario, proverete un grande trasporto nei confronti della persona amata, ma non sempre troverete le vie giuste per sciogliere il suo cuore. Tutto perché non l'ascoltate a sufficienza e non la riempite delle attenzioni che meriterebbe. Capricorno, se la scarsa conoscenza dell'argomento vi impedisce di affrontare un lavoro, non rinunciate all'impresa. Rimboccatevi le maniche e mettetevi in cerca delle nozioni o degli strumenti che vi mancano. Acquario, se avete qualche impegno urgente da portare a termine, fatelo nel primo pomeriggio, dove intuito e capacità di giudizio saranno al massimo. Vi aspetto una serata molto divertente e stancante con gli amici. Pesci, è inutile piangere sul latte versato, mettendo in discussione le scelte già fatte. Cercate piuttosto di non sbagliare più e di trovare una nuova strategia d'azione. Vi manca un po' più di fiducia in voi stessi.